Se questo provvedimento, noi ne abbiamo parlato col governo, ne abbiamo parlato con i ministri appositi che hanno le deleghe e il porti, noi abbiamo detto se questa è una cosa provvisoria nel durante, mancando ancora una situazione finale che è la marittima che avverrà nel canale nord e lato nord, che l'autorità portuale sta facendo, in questa mancanza noi abbiamo pensato di firmare degli accordi con le società di navigazione, della società di crociera in cambio di un compenso alla città e questo continuerà a essere questa la linea, per cui chi verrà mettendo dei paletti ben precisi sulla velocità dei lancioni che dovranno transitare davanti a San Marco per andare in marittima, perché in marittima ci sarebbe in questo momento la discesa e poi anche per raccontare che diano una serie di documentazioni già dentro la nave per l'uso di Venezia e poi diano un contributo alla città, con queste condizioni si può fare transitoriamente finché il porto a Marghera non sarà finito.